In questo video andremo a vedere come salvare una struttura personalizzata. Per poter procedere al salvataggio è innanzitutto necessario creare la struttura di una strategia richiamando sempre tramite il menu contestuale sul titolo la finestra delle strategie. In questo caso partiamo dalla creazione di una nuova strategia in cui andremo ad esempio ad inserire un ordine di acquisto, ad esempio, ma non andiamo a definire in questa fase i dati perché stiamo appunto creando una struttura generica che ci servirà successivamente come base per la riproposizione di altre strategie. Se desidero in questa fase inserire comunque i dati relativi all'ordine posso comunque procedere secondo le mie necessità. Andiamo a creare, procediamo quindi con l'inserimento e andiamo a creare un secondo blocco. In questo caso al posto di aggiungere un ordine semplice inseriremo un gruppo. Andiamo ad inserire ad esempio lo stake profit più stop loss e diamo conferma. vediamo come la nostra finestra si compila automaticamente con anche il blocco relativo al take profit più la chiusura di posizione in stop e andiamo a creare un collegamento fra le due parti. Possiamo ad esempio indicare che l'ordine 1 attiva il gruppo 1 cioè al verificarsi dell'esecuzione ad esempio dell'ordine 1 sarà operativo, secondo i parametri impostati e i relativi vincoli, il gruppo 1. Una volta definita questa relazione andremo semplicemente a cliccare sul tasto salva struttura definendola un nome e come vedete c'è la possibilità di inserire anche una descrizione. A questo punto diamo conferma ci viene confermato l'inserimento della strategia e quando al successivo richiamo della maschera di inserimento strategie vorremmo richiamare la struttura creata non la ritroveremo tra quelle predefinite ma dovremo selezionare il tab utente e ritroveremo la strategia appena creata strategia 002 diamo conferma e vedremo come la nostra maschera di inserimento strategie si compilerà con la struttura precedentemente creata a questo punto senza dover ricreare tutto da zero andremo semplicemente a inserire e adattare i parametri mancanti per gli ordini potremo cambiare titolo o mantenere lo stesso se riteniamo piuttosto che al termine se vorremmo inserire la strategia basterà cliccare sul tasto inserisci come mostrato negli altri video tutorial grazie a tutti grazie a tutti